Sono molto contento, conoscevo già il mister, mi c'ero allenato due settimane in ritiro a Vercelli e secondo me abbiamo per adesso un bel gruppo e ci stiamo anche divertendo. Sì, ritorno in Sicilia dopo un anno e ti dico la verità spero che mi porti bene, gioco da tanti anni in Serie C e quindi ti devi adeguare un po' alla categoria che è molto difficile secondo me e niente. Ad oggi ho 27 anni e spero quest'anno di fare un bel campionato. Oggi ho giocato nell'A e nel B, l'A si gioca molto più a pallone, il B è una C soltanto nel centro nord, quindi rispecchia molto quello del sud. Il sud è sicuramente il più difficile dal punto di vista dell'atteggiamento in campo, della verba con cui si affrontano le cose, quindi sarà tosta. Ma secondo me ci toglieremo belle soddisfazioni.